Sono decine le interrogazioni senza risposta fatte dalle minoranze al sindaco e alla giunta di Sernia. Chi protesta più di tutti è il consigliere di Forza Italia Raimondo Fabrizio. Io ho interrogazioni di circa un anno alle quali tra l'altro ancora non ho risposta. E l'ultima interrogazione che ho presentato, voglio sapere il motivo per il quale una parte della città è stata asfaltata, sono state fatte pezze di asfalto, dove ne ha maggiormente bisogno, soprattutto e tutti sanno, della via Sant'Eppolito. Rimasta così non sappiamo il motivo. Spero che intervengano urgentemente anche perché lì c'è l'ospedale, è una situazione assolutamente caotica e non va bene. Sarà mercoledì prossimo il giorno scelto da Brasiello per rispondere alle interrogazioni arretrate, ma si parlerà anche di università e dell'accordo raggiunto con Curia e Unimol per far restare la facoltà di scienze politiche nell'ex convitto. Ma Fabrizio incalza l'amministrazione Brasiello anche su altre questioni, come la destinazione scelta per i fondi Pisu. Io ho interrogato appunto questa amministrazione per sapere, visto che l'amministrazione precedente, tra le altre cose alle quali io facevo parte, decidemmo di spendere i soldi per quanto riguarda Pisu, 1.200.000 euro per quanto riguarda la costruzione del parco del Paleolitico. Invece con la nuova amministrazione ha deciso di destinare tutte le somme dei Pisu, quindi quasi all'incirca 4 milioni d'euro, sul parco della stazione. Quindi vorrei sapere che fine farà il parco del Paleolitico, anche in virtù del fatto che ci hanno fatto una campagna elettorale. Questa amministrazione centro-sinistra ha fatto che poi tutto è, ma tranne di sinistra, perché si tratta di gente che prima era con noi, ed ora è passata all'altra parte, non si sa il motivo, o meglio lo sappiamo tutti quanti, comunque lasciamo perdere. Voglio sapere cosa intendono fare per il parco del Paleolitico in virtù del fatto che questi soldi ora sono stati destinati su altri progetti. Infine anche una coda polemica sui meriti per la realizzazione del canile municipale. Il canile chiaramente voglio sapere, come mai c'è stata una piccola rielaborazione del progetto, tra l'altro ricordo anche il canile, è stato un progetto fatto esclusivamente dall'Aggiunta Melogli, quindi dall'Aggiunta precedente, con i soldi che era l'assessore Rosetta Ioro. Quindi hanno rimodificato, non si sa il motivo, anche per questo vorremmo sapere perché.